Oggi parliamo di dichiarazioni di origine e made in. Una corretta gestione delle dichiarazioni di origine è indispensabile per l'export, per rispondere alla normativa doganale e per la definizione del made in. Richiede però una forte interazione tra i dati dell'IRP aziendale e informazioni che sono a disposizione solo dei fornitori. Per ogni componente in acquisto è infatti indispensabile conoscere il suo paese di origine e la sua eventuale preferenzialità. Queste informazioni devono essere sempre aggiornate, accessibili e supportate da una dichiarazione del fornitore con validità massima di due anni. Ogni volta che l'ufficio acquisti decide di ordinare un nuovo componente, il fornitore deve essere sollecitato a fornire la dichiarazione di origine corretta. Tutto questo impone un processo ben organizzato e l'interazione tra diversi sistemi e KR Orchestra e il portale fornitori sono una soluzione a queste spinose esigenze. Sentiamoci subito per approfondire questi temi. Grazie a tutti!